La disabilità visiva dalla prevenzione all'inclusione è questo il tema al centro del convegno che si terrà a Vico del Gargano nell'auditorium Lanzetta, martedì 13 dicembre a partire dalle 17, giorno dedicato a Santa Lucia, protettrice degli occhi. Un evento che fa parte del calendario di eventi natalizi organizzati dal comune di Vico del Gargano. Collabora e partecipa all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Dopo i saluti istituzionali interverranno la dottoressa Anna D'Ambrosio, il presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Foggia, Franco De Feo, la dirigente territoriale della UCI Meri del Viscio. I lavori del convegno saranno coordinati dalla giornalista Michele Lauriola. Si partirà con la dottoressa Anna D'Ambrosio che affronterà le problematiche legate alle patologie oculari partendo dalla necessità di potenziare i servizi e presidi per la prevenzione, la diagnosi precoce e la riabilitazione con un'attenzione particolare verso i diritti dei disabili visivi ad essere supportati per un'adeguata autonomia e per conseguire una migliore qualità di vita. L'incontro sarà utile anche a fare il punto sugli ausili e sulle nuove tecnologie che aiutano e chi ha a che fare con la disabilità visiva in ogni ambito. Durante il convegno ci saranno anche dei momenti musicali a cura del maestro Franco De Feo, della violinista Dea De Feo. Interverranno anche donne e uomini che porteranno le loro testimonianze di vita vissuta nell'affrontare i problemi connessi alla disabilità visiva. Sarà il professore Franco De Feo discutere di disabilità visiva e dell'importanza della scuola per sostenere gli studenti ciechi e i povedenti.